13 spettacoli tra prosa, danza e musica, tre percorsi laboratoriali, cinque rappresentazioni dedicate ai più giovani. Sono i numeri della nuova stagione del teatro comunale di Corato intitolata La grammatica delle abitudini, organizzata dall'amministrazione del sindaco De Benedittis in collaborazione con il teatro pubblico pugliese. Si torna in scena, questa volta a pieno regime dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Ad aprire la rassegna il 15 dicembre sarà Fred, lo spettacolo di Roy Paci e Mattias Martelli dedicato alla figura di Fred Buscaglione. Si proseguirà il 4 gennaio con lo spettacolo di danza Grace's di Silvia Gribaudi, un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza di Antonio Canova. Una stagione che va dai grandi classici al teatro contemporaneo, passando per il teatro pop con i grandi nomi della scena italiana, come Giorgio Marchisi, Lucrezia Lante della Rovere, Emilio Solfrizzi, Antonio Cornacchione e Max Pisu. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle compagnie pugliesi. Stagione che si concluderà il 27 maggio con l'attore Lino Guanciale in No svegliate lo spettatore, musica e regia di Davide Cavuti. Saranno avviati inoltre tre percorsi laboratoriali a cura di Tony Marzolla, Patrizia Labianca e Claudia Lerro. Dal 7 gennaio partirà anche la stagione di teatro ragazzi, con 5 spettacoli domenicali e 5 matinè per le scuole del territorio. Si apre una nuova stagione teatrale e lo si fa puntando in alto, ha commentato il sindaco De Benedittis in conferenza stampa. La proposta è ampia e si rivolge ad un pubblico trasversale. Particolare attenzione è riservata alle fasce giovanili, alle quali si garantisce prezzo accessibile e incontri con le compagnie e laboratori. L'obiettivo, conclude il sindaco, e fare del teatro di Corato un riferimento forte e autorevole del Norbarise. Per l'assessore alla cultura, Beniamino Marcone, sta per partire una stagione di prosa di alto profilo e ben assortita, caratterizzata da nomi importanti del panorama teatrale italiano ma anche da artisti del territorio pugliese di grande valore. Per noi è un orgoglio tornare anche quest'anno a collaborare con il comune di Corato, ha sottolineato invece Giulia Dellisanti, dirigente del teatro pubblico pugliese per una stagione importante che vedrà alternarsi sul palco artisti di fama nazionale e talenti pugliesi. Una scommessa che ogni anno facciamo insieme all'amministrazione per proseguire nell'opera di formazione del pubblico e contribuire alla crescita dei cittadini di domani.